Il Comune ha voluto assolutamente fornire una prova di forza con una ZTL che poteva benissimo essere modulata prima con magari la chiusura dalle 18 alle 6 del mattino e dopo per le 24 ore. Io ricevo molte telefonate da persone che non sanno ancora nulla di come sia il ZTL, hanno paura, chiedono di permessi, chiedono di altro, molte persone sono anziane e hanno paura. È un incentivo a combattere la mia pigrizia, si va meglio a piedi, si va meglio in bicicletta se vogliamo, quindi non c'è problema per i varchi. Il problema è che manca un serio servizio pubblico che renda i cittadini autonomi senza bisogno di portarsi la macchina a presto. È giusto bloccare ogni tanto i flussi. Basta seguire le regole, non è un problema, tra viso non mancano i parcheggi o non mancano i passaggi per arrivare dove si vuole. È un po' complicato, diciamo che raggiungere il centro anche con il discorso del limite di 30 all'ora e quant'altro diventa sempre più complicato. La spesa la faccio in qualche altra parte. Basta che non chiudano tutto completamente, insomma comunque con questi varchi qua per il momento si va anche bene. La gente si stanca, la gente vuole prima avere i parcheggi, dopo avere le ZTL. Non è difficile da capire, ma se il Comune non lo capisce è un problema loro, non nostro. Noi che abbiamo le attività commerciali ci guardiamo, ci giriamo le mani e ci guardiamo intorno e ringraziamo il Comune.